Buonasera, benvenuti alla puntata 34 di Attenti a quei due, una puntata che capita in un giorno storico, il 14 maggio, Daniele De Rossi ha annunciato il suo addio alla Roma e l'ha fatto in una straordinaria conferenza stampa, in questo momento di sbandamento dei valori calcistici, il Palermo, il Foggia, tutto quanto il casino che si può immaginare, guardatevola su Youtube, una lezione di stile alla società e a che cosa significa essere calciatori e anche punti di riferimento per un sacco di persone. A questo punto, scusatemi, dopo i 10 milioni di Euro di paracadute che daremo a Antonio Conte, De Rossi cerca squadra, sta vicino a casa, tranquillo, lui ha detto che in Italia sarebbe andato solo all'ostiamare, ma il Frosinone che gli ha fatto rispetto all'ostiamare? Alta serie B, tranquillissimo, ecco fatto. E parleremo a proposito di tutte queste vicende in questa serata, lo facciamo come al solito con un parterre di ospiti di assoluto rilievo, cominciamo dalla mia estrema sinistra, dall'avvocato Mauro D'Agostini, con proprio ormai storico esperto di mercato in Italia, punto di riferimento del mercato italiano, Mauro buonasera. Armando buonasera, grazie, sempre troppo buono. Subito dopo, Laura Collinoli, grandissima Laura, bentornata, siamo veramente contenti di averti tra noi di nuovo, ciao. Un'eccezione mia, se possibile. Grazie. Stefano è sempre molto carino. Stefano si è presentato da solo, eccoli qui, 80 punti l'anno scorso, 60 quest'anno, fanno 140 punti, alla mia testa Francesco Pippenburg, allenatore del Ferentino Calcio, benvenuto, anzi bentornato, bentornato da noi, buonasera. Buonasera a voi. Subito dopo, uno dei protagonisti di questa annata sportiva del Frosinone, non esagero, lo vedrete, Paolo Tosti. Paolo, buonasera. Grazie, grazie per i complimenti. Prego, prego, prego. Subito dopo, Stefano Larosa, uno dei portafortuna di questa squadra, uno di quelli che quando va in trasferta il Frosinone in generale vince. Sì, buonasera a tutti. E' vero, infatti, quest'anno Ferrara, Chiavari l'anno scorso, quest'anno poi qualche volta è andata male, più di qualche volta. Sì, è andata così, è andata un po' come è andata a Frosinone anche questa domenica, io non lo so, vado un po' controcorrente rispetto a quello che ho sentito, l'Udinese è una delle peggiori squadre che ho visto giocare a Frosinone, la fortuna di questa squadra, la fortuna, la capacità di questa squadra è invece quella di averci una rosa di livello, quindi nelle volte in cui sono partiti sono stati spietati perché giocatori di livello fanno poi azioni, gioco, insomma. E questa secondo me è stata la differenza rispetto a noi che ai punti avremmo addirittura meritato il pareggio, secondo me, nel primo tempo e questo è uno dei problemi probabilmente di questa squadra. Non so se Stefano questa iperbole esagerata la condividi oppure no. No, no, assolutamente, il primo tempo devo dire che è stata una partita piacevole perché ci sono state azioni da una parte e dall'altra, occasioni da parte nostra che potevano anche concretizzarsi diversamente. Poi, ovviamente, giocatori con un tasso tecnico diverso come Okaka ti decidono la partita, agevolato un po' magari dalla scarsa pressione della nostra difesa, però secondo me lì c'è stato il merito del singolo giocatore che ha realizzato un bel gol. Eppure di un portiere, Stefano era appassionato, eppure di un portiere che già avrà un futuro. Ottimo, l'Umus, il portiere dell'Argentina. Che vedremo sicuramente in altri palcoscenici. Anche perché ha dato proprio l'impressione, se vede sull'occasione di Paganini e il secondo tempo, se qualcuno lo ricorda, perché poi alla fine uno diceva che ha perso 3 a 1, infatti invece in realtà nel primo tempo è stato il risultato più bugiardo degli ultimi, da Pescara a Frosione 3 a 0, questo era così bugiardo, perché effettivamente, hanno fatto 3 tiri in porta, di cui uno, il gol di Okaga ha fatto un tira banana mai visto nella storia, il gol di uno è un errore nostro e l'altro sul Bardi non esce ovviamente neanche se sta Jennifer Lopez desnuda sul dischetto in rigore, quindi c'è poco da fare. Però la parata sul secondo tempo su Paganini, ma ho un senso di sicurezza. Anche la parata su Ciano nel primo tempo, la parata a terra su Ciano con una reattività. È un portiere che credo che è di passaggio a Udine ed è vista la scarsezza assoluta dei portieri argentini che si sono presentati ai mondiali con praticamente Marcianò e sarebbe stato Dolare, credo che Musso sarà il prossimo Dolare nazionale argentino. Mister, abbiamo esagerato a fare questa descrizione di questo primo tempo di un Frosione che secondo me non meritava, i tre gol sul gruppone. Ma io credo al di là del risultato in questo momento è chiaro che c'è una sommatoria di fattori che va a determinare un attimino quello che succede poi in campo. Questa già è stata una squadra che secondo me dall'inizio non ha mai brillato per atteggiamento. In questo momento adesso non c'è più obiettivo, comunque c'è solo l'obiettivo di onorare la maglia che non è poco, però credo che questo comporti comunque uno scoramento totale che indipendentemente poi dalla prestazione in campo possa comunque creare difficoltà a qualsiasi squadra in questo momento. Certo. Paradossalmente, io dico sempre cose a caso, è quasi più semplice a Milano perché dicevo col Milano io la prestazione la faccio perché vado a Milano, gioco al San Siro, magari il primo tempo se non va troppo male mi comincio a far l'arcigno. Ricordiamo che veramente lo scorso ho vinto a Milano, a noi che ci manca per fare una cosa di questo genere. Preceduto a precedere questa partita secondo me c'è stato uno dei momenti più alti dal punto di vista sportivo di questa annata. Paolo Tossi è stato uno dei protagonisti, già all'andata con i tifosi dell'Udinese c'era stato uno scambio veramente amichevole, partito dal basso, probabilmente nemmeno partito dalle tifosi riorganizzate ma partito tra le persone. Assolutamente. Prego alla regia di mandarci appunto il contributo, eccolo qui. Questa fotografia si riferisce a una serata che abbiamo trascorso successivamente alla partita del 22 dicembre, Udinese-Frosinone. Quindi all'andata. Sì, all'andata. Siamo stati ospiti di questo club che è quello poi di San Daniele, che è un club devo dire veramente gestito in maniera incommiabile dal Presidente, un po' da tutti e non lo so, siamo stati ospitati in una maniera incredibile, veramente ci siamo sentiti a casa nostra e si è parlato sicuramente di calcio, della partita, però poi la cosa che è importante è quella che stiamo vedendo adesso in televisione, cioè proprio passare questi momenti al di fuori poi dello sport, quello che secondo me è la cosa più importante, l'amicizia. Sì, diventa un'occasione incontro e questa visita è stata, questa ospitalità offerta ci dai tifosi dell'Udinese è stata ricambiata, anzi hanno visto e rilanciato come si direbbe a poker a Frosinone ed è stata ricambiata, ecco e questa è una delle immagini più simpatiche, insomma questa è quella che io ho definito la conca dei campioni, no? Bellissimo, la seconda, quest'anno ha vinto un'altra, la Juve ha vinto un'altra e poi l'Udinese la seconda, vabbè, non tocchiamo questo tasso, però diciamo che questa è la torta che abbiamo realizzato insieme, si è instaurato questo rapporto bellissimo, secondo me forse proprio lo spirito, ecco questa ce la siamo fatta a Sperlunga perché li abbiamo accompagnati, li abbiamo fatto visitare un po' quelle che sono le nostre bellezze, voglio dire, sia a Sperlunga, poi siamo andati a Cassino e li abbiamo accompagnati ad Alatri e adesso ci siamo dati appuntamento come dicevano Stefano prima, quando giocheremo con il Pordenone perché si giocherà sicuramente a Udine, per cui stiamo già organizzando questo terzo tempo, è bellissimo, ci tengono tantissimo a terzo tempo, questo è un terzo tempo, se vi ricordate ci sono le immagini perché fuori dallo stadio era Natale, ma obiettivamente ogni tre macchine c'era una macchina ferma, era un freddo terribile, non era il freddo di Reggio Unito, era fantastico devo dire, siamo stati benissimo, veramente loro vivono lo sport, vivono la partita in una maniera veramente piacevole, secondo me questa cosa bisognerebbe fare un po' dappertutto, quando ci si riesce, non con tutte le tifoserie è possibile perché insomma questa cosa è straordinaria, è stata una domenica intensa, straordinaria questa qui allo stadio Stirpe e Andrea Santa Caterina Siluerie questa sera l'abbiamo lasciato lì, è ancora lì sulla curva e lo voglio salutare, oggi sarà una presenza particolare quella di Andrea eccolo ci siamo, ciao, buonasera a tutti, buonasera a Amanda, Stefano e ai vostri ospiti in studio e sì, sto qui a Frosinone perché vi racconterò una cosa un po' particolare alla fine della trasmissione, quindi niente, volevo solo ricordare questo che probabilmente la nostra piattaforma tornerà, che ricordiamo è la codice fiscale di attenti a quei due, piattaforma che fa da concorrenza, da zone, lo ricordiamo, e tornerà protagonista il prossimo anno perché probabilmente i diritti della serie B noi concorreremo a prenderli insomma ah sì, questo è fantastico grazie Andrea, sicuramente sì, quindi mi è piaciuta particolarmente questa cosa di Paolo perché noi siamo quelli che hanno applaudito la retrocessione, siamo quelli che domenica soprattutto in Curva Nord hanno dato una lezione di stile per tutti i 95 minuti, non si sono fermati mai, in realtà la Curva Nord ha da sempre lezione di stile, non perché io sia abbonata in quel settore, insomma, no mi piaceva chiaramente, parliamo di altri livelli quindi Mutatis Mutandis, mi piaceva accostarlo a quello che è successo tra Liverpool e Barcellona perché è uscito qualche giorno dopo questa cosa, cioè abbiamo tutti applaudito i tifosi del Liverpool che hanno cantato insieme l'inno ed è stata una cosa veramente meravigliosa che è una cosa commuovente per tutti i tifosi, però poi qualche giorno dopo è uscito questo questo video dal settore del Barcellona che inquadravano i tifosi del Liverpool e sono partiti con un applauso meraviglioso, insomma, in un momento per loro chiaramente difficile dal punto di vista sportivo e quindi insomma ricordarci, me compresa, perché non sono sempre così sportiva, ricordarci come insomma siamo principalmente tifosi ma anche sportivi. A proposito di sportività, c'è insomma un elemento che l'anno scorso è stato di particolare conflitto ed è uno dei temi che toccheremo con la prima firma della Gazzetta dello Sport, il più grande esperto della Rosa sulla Serie B e abbiamo la fortuna di riaverlo ospite. Questa sera Nicola, Nicola Binda, buonasera Nicola, ciao. Buonasera a voi, buonasera a tutti che sono stati a noi. Allora Nicola, noi ovviamente non ci piangiamo addosso, siamo già proiettati al prossimo campionato di Serie B, la cronaca è così, la toccheremo in modo tangente diciamo. Questa questione del Palermo, ma direi anche la questione della Salernitana, che impressione ti sei fatto tu di tutta quanta questa vicenda? In particolare quella della Salernitana, perché quella del Palermo ci pare abbastanza chiara. Che ne pensi tu? Beh, non avessimo già passato l'estate che è passata dieci mesi fa, diciamo che siamo concertati insomma, però quell'estate lì ci ha fatto capire che può succedere di tutto. Oramai di certezza ce ne sono poche e purtroppo mi auguro che la nuova Federcalcio riesca a evitare delle situazioni poco edificanti come quelle dell'ultima estate, però quello che è successo in queste ore ci ha ributtato tutti quanti in confusione perché è inconcepibile e mi aspetto che giovedì il Consiglio federale risponda alla Lega Serie B a questo provvedimento assolutamente inaspettato e decida di intervenire perché non si può accettare una cosa del genere. In particolare noi crediamo che, come andrà a finire secondo te, noi crediamo che alla fine il Palermo resta in Serie B con un po' di penalizzazione, più oscura invece la vicenda relativa ai play-out, per quanto Mauro D'Agostini qui da noi, insomma avvocato, avrebbe una teoria rispetto a questo? No, vabbè, la notizia è uscita anche su vari siti di informazione sportiva, praticamente la decisione della Lega di Serie B va contro quello che è l'articolo 51 delle norme federali della FIGC perché lì si prevede che in caso in cui sia in questione il titolo sportivo di una squadra, nel caso in cui si parli di retrocessione c'è necessità di uno spareggio, quindi essendo il Palermo retrocesso come ultimo, cioè praticamente la penalizzazione prevede l'ultimo posto in classifica, quindi ci sarebbe uno slittamento delle posizioni delle ultime squadre e quindi il Foggia dovrebbe giocare lo spareggio per i play-out. Sì, ecco, per dirlo meno da avvocato, con tutto il rispetto, un po' più da uomo di strada, diciamo che il regolamento dei campionati, le leghe lo propongono alla Federcalcio e la Federcalcio lo ratifica, il regolamento della Serie B prevede tre retrocessioni più un play-out tra due squadre, questo regolamento è stato ratificato dalla FIGC, ieri il Consiglio Direttivo della Lega di Serie B l'ha stravolto, ha detto che il play-out non si gioca, di punti in bianco, chiaramente la federazione è offesa perché dice che non avete rispettato un regolamento che io ho firmato e quindi giovedì il Consiglio federale si vedrà a Federcalcio come risponderà. Poi voi dite che il Palermo farà la Serie B, non lo so, può darsi, può succedere di tutto, ripeto, ne abbiamo visti di tutti i colori, quindi il processo di appello potrebbe anche riammettere il Palermo e in questo caso farebbe una Serie B a 21, cosa succederà? E se il Foggia dovesse, che fa ricorso anche il Foggia perché il Foggia ha diritto a giocare questo play-out, se il Foggia fa ricorso e ottiene ragione ha già nominato il professor Catricala come avvocato difensore, il Foggia tra l'altro, quindi se il Foggia dovesse aver ragione avremo una Serie B ancora a 22 squadre, dopo che quest'estate c'è stata tutta quella battaglia tra l'arrivo e la 19, cosa succederà? Veramente una questione complicata, senti Nicola una cosa ti voglio chiederti, ovviamente noi insomma il prossimo anno saremo una squadra retrocessa, che pericoli e quali invece sono le opportunità di una squadra retrocessa dalla A alla B? Intanto Frosinone ci è già passato, quindi sa benissimo cosa succede quando si ritorna indietro dalla Serie A, sa benissimo lo stato d'animo qual è, la delusione va smaltita in fretta, bisogna voltare pagina e ripartire trovando nuovi stimoli, quindi Frosinone è una società esperta, sa benissimo come si deve approcciare al nuovo campionato, in più va detto che l'anno prossimo si profila una Serie B non di grandissimo spessore, perché adesso vedremo quale sarà la terza promossa in Serie A, però tra le squadre salite dalla Serie C e quelle che retrocedono dalla Serie A e quelle che rimangono in B, non vedo un campionato con 7-8 squadroni pronti a vincere il campionato, vista adesso che siamo al 13 maggio, quindi in larghissimo anticipo, però l'anno prossimo non dovrebbe essere una Serie B irresistibile, ci saranno l'Entella, il Pordenone, la Juve Stabia, il Chievo che è un po' in disarmo, forse l'Empoli, non lo prossimo, se adesso con la terza mettiamo sale il Benevento o il Verona, per esempio, ecco che un'altra big se ne va e quindi l'anno prossimo sarà una Serie B decisamente abbordabile, però adesso non vorrei essere precipitoso perché è il 13 maggio, però lo scenario che si delineo è questo. Io faccio una domanda invece sulla base dei campionati passati, sulla Serie B, cioè che in ogni campionato c'è sempre una squadra o addirittura due come l'anno di Spala e Benevento che riesce a fare il doppio salto, ci potrebbe essere qualcosa, qualcuna delle squadre che sono salite da questo tipo di idea, contando che ne devo salire ancora due dalla Serie C, intendiamoci, che potrebbero essere anche squadroni, insomma, nel senso con Blasone, tipo che so, il Catania o lo stesso Trapani, insomma. Sì, ecco, al momento sono salite in Juve Stabia, Pordenone e Dentella, il Pordenone e Dentella soprattutto sono due ottime società e dire che pensino al doppio salto mi sembra un po' precipitoso. Lo Juve Stabia è la società che ha già fatto la Serie B, che anche loro non ritornano, però non mi sembra una squadra che abbiano velleità, tipo Parma due anni fa o lo stesso Lecce di quest'anno, che era un club importante. Quindi vedremo chi vincerà i play-off, però in B può succedere di tutto. Ormai questa, che era una sorpresa, la neopromossa che vince il campionato, ormai è diventata quasi la normalità, quindi possiamo prepararci a tutto. Cioè Mauro, con una domanda velocissima, perché mi ricordo benissimo del tuo impegno. Sì, sono a un evento e chiedo scusa. Ma ha sotto contratto per la prossima Serie B parecchi giocatori che formano una signora squadra in attacco, tanto per fare alcuni nomi, abbiamo Ciano, Dionisi, Ciofani. Ecco, la domanda è questa. Lei ritiene corretto puntare per il prossimo anno sui giocatori che già sono sotto contratto oppure la retrocessione impone comunque la necessità di portare un po' di novità, cioè di aria nuova, diciamo, anche per il discorso del pubblico che magari è rimasto molto deluso da questa retrocessione? Ma conta molto la testa, conta molto l'approccio. Siccome i giocatori che hai nominato, soprattutto Dionisi e Ciofani, ci sono già passati, sanno cosa vuol dire giocare a Chiavari o giocare a San Siro. Devono tornare a avere con la mentalità che li ha fatti diventare dei califi della Serie B che hanno vinto due volte. Se loro tornano in Serie B con questa mentalità, che il Fusinone è un organico straordinario, però anche il Palermo che è stato un organico straordinario e sono due anni che ce l'ha e due anni che non riesce a vincere. Perché non hanno mai smaltito bene quelle scorie della derisione, tutto l'ambiente. Anche l'ambiente deve essere in grado di voltare pagina e dire quello che è stato è stato, riproviamoci, compatti, lottiamo unite. Questa mentalità ci deve essere. Poi certo qualche volto nuovo servirà sicuramente, la squadra andrà rinfrescata sicuramente, però con questo organico, motivato e convinto a vincere il campionato, Fusinone potrebbe non avere rivali. L'ultima domanda velocissima, Nicola. Second te da zona dato o ha tolto a questo campionato di Serie B? Ma è stata una svolta epocale, l'Italia magari non è preparata a una svolta del genere, perché la banda, l'internet in Italia ancora in certe zone non è molto coperta e quindi tante partite si sono viste poco. È diventato un campionato un po' di nicchia perché ha avuto meno visibilità rispetto a Sky. Poi con il fatto che ci fosse la sosta in contemporanea alla Serie A per le nazionali anche lì ha tolto una vetrina e quindi in questo da zompro non c'entra. C'è un campionato che dovremmo abituarsi, l'Italia deve abituarsi che il futuro è internet, ma già da un po', però in Italia siamo un po' indietro e dovremmo abituarci tutti che le partite viste su internet sono come quelle viste normali, insomma dovremmo abituarci e prepararci al futuro che è sicuramente questo. Sì, infatti speriamo che il 5G in questo ci soccorra. Nicola, noi ti ringraziamo tanto, grazie tanto e sono convinto e direi purtroppo e per fortuna, purtroppo ci sentiremo il prossimo anno e per fortuna che avremo te come interlocutore alla gazzetta, grazie. Coraggio, sicuramente, sicuramente, stiamo a disposizione, buonasera a tutti. Nicola, grazie, grazie tanto. Io non la metabolizzo sta retrocessione, no? Io invece, tu basta che fai lo schema Paolo Tosti, cominci a fare, però Pordenone, c'è Luigino, il club San Daniele e quindi andiamo lì. Poi Stefano, andiamo a Chiavari, prendo proprio la stessa macchina a noleggio, quindi io te, Angelo Battisti, Paola Sellari, la stessa formazione, il Larosetto, e andiamo con la stessa, cioè se la prendi in questo modo, alla fine è divertente. Bisogna dire i giocatori come la prendono? Perché il problema è lo stesso, se vi ricordate, all'inizio con Marino, 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 ti voglio al più presto allenare, aveva, le prime otto partite facemmo due, due, tre, quindi facemmo sette partite, due vittorie, due pareggi e tre sconfitte, perché ci volle un pochino per metabolizzare. Io credo che per dire Dionisi cercherà di spaccare il mondo, perché dopo che è stato fermo un campionato, credo che sarà motivato per dirne uno. Ma io credo che resti, così è lui che gli danni resteranno. Speriamo, speriamo. Loro restano, bisogna il resto. La chiedo all'allenatore, come si ricomincia? Da come si parte con il ritiro? Che succede? Innanzitutto ripartirei dal gruppo storico, perché comunque è un gruppo abituato già a questo passaggio. Poi sicuramente non sarà facile, perché comunque poi quando ti abituis a determinati palcoscenici, poi, come dite voi, tornare a Pordenone, Entella, piuttosto che San Siro, l'aspetto mentale credo diventi fondamentale, il lavoro della società diventi fondamentale, ma soprattutto l'apporto dei tifosi. Sarà quello il tutto, secondo me. Il Frosinone ha sempre dimostrato di essere, la tifoseria, un uomo in più, a tutti gli effetti. Quindi se supereremo la delusione, sicuramente sarà un valore aggiunto che può sicuramente dare una spinta importantissima a questa squadra. Infatti, probabilmente cambiando anche cifra tecnica questa squadra rispetto al campionato di Serie B, non servirà l'indecisione che c'è oggi, se serve un cardinale o un vesco per riconsacrare lo stirpe, che è diventato terra di conquista. Il Frosinone in questo momento fa un record storico negativo, quello di una squadra, una sola vittoria in casa insieme al Chievo. Riuscendo a vincere a questo punto col Chievo in casa, si riuscirebbe a raggiungere squadre di Blasone, come il Legnano, come... Sì, ma fuori casa siamo una squadra da classifica, è una cosa, devo dire... Un po' come il Ferentino, che è una squadra... Sì, poi ne parliamo. Il Ferentino, poi ne parliamo. Scusami, stai, ho interrogato. No, no, io dicevo, questo... È evidente, è quello che diceva l'altra volta Scorcierti, cioè, essendo una squadra passiva, è evidente che fuori casa, diciamo, paradossalmente, va meglio. Guarda, il discorso è molto semplice, bisogna vedere un attimo... Innanzitutto dipende molto, poi, dai quadri tecnici. Eh, sì, di questo ne parliamo subito dopo la pubblicità. Avremo ospite Daniele Ciardi, di Ciociari Oggi, e con lui inizieremo a fare un ragionamento rispetto a questo tema, ma c'era Mauro, che aveva già sette giocatori da proporre al... Oltreo che reghi, dico. Il prossimo campionato di Serie B, io non la vedo così facile, come dice Nicola Binda. Con tutto il rispetto per Binda, che è un esperto, una persona molto competente. Secondo me, invece, è un campionato che presenta molte difficoltà per le squadre che retrocedono dalla Serie A, l'abbiamo visto quest'anno. Il Crotone ha rischiato di retrocedere, pur avendo un organico di assoluto spessore. Il Benevento, secondo me, forse è l'organico migliore, va a fare play-off e comunque non li ha vinti. Il Verona, la stessa cosa, ha rischiato di non entrare nemmeno nella griglia play-off. Quindi non mi sembra un campionato così semplice. Anche, soprattutto, per le difficoltà a metabolizzare l'amarezza legata alla retrocessione. Certo. Poi bisogna ragionare su come impostare. Una cosa dipende molto dal Chievo, secondo me. Cioè, dipende dal fatto che il Chievo ha fatto questo campionato di disarmo. Si prende 24 milioni di euro di paracadute per ripartire o se invece la favola Chievo, in senso generale, è finita, come denotavano gli ultimi bilanci. Perché effettivamente i trucchetti del Chievo sono la radice quadrale dei trucchi del Palermo. Ribadisco, per fare 10 secondi il commercialista, il Chievo ha fatto gli ultimi 3-4 bilanci, tutti basati sulle plus valenze, con lo scambio col Cesena. quindi una serie di irregolarità contabile potrà essere scritta. Adesso gli arrivano i soldi veri e quindi da lì si vedrà molto se è disarmo o se riparte. Ha già fatto esordire parecchi giovani. Sì, ce ne sono anche molto interessanti. Vignato è un giocatore che arriverà molto lontano. La sensazione è che ce l'abbiamo un po' tutti. Penso che anche Mauro, che è un tecnico, mi può confermare questo ragazzetto piccolino, Vignato dico, è molto forte. Pace pure, appunto. Pace anche, insomma, un giocatore di colore che mi ha colpito, Al Chievo. Diciamo che quello dipende molto. Giusset. Dipende molto. Giusset stava già all'Empoli tre anni fa. Lì dipende molto da quanto in realtà Al Chievo voglia essere dominante e voglia tornare subito. Perché può anche essere che molto semplicemente ha deciso che è come quello che accadrà a Sassuola quando Squinzi deciderà di... Già ieri hanno scadrato contro l'Inter tre giovani, il portiere che si è messo in particolare evidenza. Ma ne parliamo un subito dopo perché mi stanno facendo segni bruttissimi, mi stanno facendo segni bruttissimi alla regia perché è il momento della pubblicità e noi ai nostri sponsor li vogliamo particolarmente bene e li ringraziamo per tutta quanta questa stagione che ci hanno sostenuto in queste 34 puntate. Linea a loro. Rieccoci, rieccoci in studio voglio subito infrangere un sogno a Stefano Pizzudelli che sognava insieme a Stefano La Rosa se non sei Stefano non sogni o che re che il nostro esperto di mercato ci dice invece che o che re che che fine fa invece Mauro? Sembra destinato ad andare a giocare in Belgio nel Genk. Cioè in Belgio oltre la cioccolata seriamente ma la birra neanche tanto che c'è sta cioè che c'è sta siamo seri non anche fra di loro parlano la stessa lingua qua almeno ci insultiamo tutti quanti in italiano forse ci sta qualche zero in più sul contratto e sei sempre così precisino però non è possibile particolarmente anche l'anno scorso avevamo caldeggiato Guamè se vi ricordate e ci ricordiamo nelle trasmissioni di fine campionato quando iniziavamo a giocare al fantacalcio non puoi fare noi osservatori sì non mi parla di fantacalcio che ho speso gran parte il mio budget per i Guain quest'anno non mi ho manco ritardo i soldi infatti questo è un problema comunque rientriamo dentro le questioni dovremmo fare un ragionamento almeno noi così in questo bar che abbiamo qui ad Extra TV rispetto all'allenatore questo bar uni esatto questo bar uni che viene alla fine di un ragionamento che passa per il direttore sportivo che viene a sua volta dopo ragionamento sul direttore generale e venne l'acqua che spense il fuoco che bruciò il bastone che picchio il cane tutta quanta questa questione Paolo tu te lo tieni Baroni ma io credo che quest'anno non so se si possa giudicare in maniera compiuta il lavoro di Baroni perché credo che quando un allenatore subentri in corsa sia sempre difficile valutazione che i giocatori non li ha scelti lui il gioco alla fine si è dovuto adattare a quelle che erano le caratteristiche dei calciatori per cui io una prova d'appello insomma gliela darei sinceramente a Baroni a proposito di questo chiedo insomma Mauro non voglio mettere in imbarazzo il mister perché mi sembra che si autopropone indelicato al Bologna è contato più Lianco oppure è contato più Mijalovic secondo te? ma è contato Mijalovic sono contati pure gli acquisti sono contati pure Sansone e Soriano sicuramente Mijalovic ha avuto un peso determinante nel cammino del Bologna nel giorno di ritorno ha cambiato completamente la mentalità della squadra è una squadra che gioca per vincere tutte le partite quando invece con Inzaghi faceva un calcio molto più attendista è quello che dico io secondo me l'allenatore deve incidere sulla squadra cioè non può rinunciare alle proprie idee Baroni quello che mi ha sorpreso perché secondo me lo ritengo un allenatore molto preparato per la Serie B ma anche per la Serie A anche lo scorso anno a Benevento comunque aveva fatto vedere un ottimo calcio è stato troppo si è adattato troppo a quello che era diciamo il materiale che aveva nel senso che tu comunque hai le due idee e devi incidere con le due idee sulla squadra altrimenti non ha senso cambiare l'allenatore secondo me ha avuto poco coraggio è stato troppo aziendalista e ha avuto poco coraggio insomma di che cosa succede di che cosa succederà in questa squadra e in questa società insomma ci rivolgiamo a un aiuto l'aiutino da casa questa volta invece ce l'abbiamo a Cioceria Oggi ed è Daniele Ciardi che come dire l'ambiente del Frosinone lo respira e lo racconta da par suo tutti quanti i giorni sia su Cioceria Oggi che sul Corriere dello Sport Daniele buonasera benvenuto a Tanto e Quei Due ciao Daniele buonasera buonasera a voi grazie senti da dove da dove ricomincia il Frosinone diciamo che il discorso dell'allenatore è l'ultimo dei discorsi il primo dei discorsi forse è la struttura societaria addirittura il direttore sportivo e invece come pensi che succederà il ragionamento? sicuramente sì penso che il direttore sportivo sia la prima mossa e subito dopo il direttore sportivo l'allenatore per quanto mi risulta dopo la recessione consensuale con Giannetti credo che anche Capo Zucca venga mandato a casa per cui Frosinone in questo momento essenza un direttore sportivo mentre Stefano fa la ola sulla tua notizia di Capo Zucca accompagnato alla porta mentre tu pensi che il posto di Salvini sia saldo? io credo di sì perché secondo qualcosa che trapela all'interno società ma probabilmente possiamo vederlo anche noi Salvini non ha responsabilità nella costruzione della rosa di squadra di questa stagione ok senti le curiosità supponendo per assurdo ma non troppo per assurdo che sia Frara il prossimo direttore sportivo del Frosinone tu pensi che Baroni sia un allenatore utile in questo momento per rilanciare le ambizioni della piazza perché penso che ci sia bisogno pure un po' di entusiasmo come dicono a Napoli di una gettata di coriandoli guarda io più che dell'entusiasmo della piazza riferendomi a Baroni per quanto mi risulta il discorso va fatto in maniera diversa nel senso che credo che ci sia del malcontento a livello di spogliatoio e allora noi dobbiamo capire se ripartiamo dai 15 giocatori sotto contratto secondo me non si può fare con Baroni ok se poi se poi il Frosinone decide di tenere Baroni probabilmente qualcuno dei sottocontratto chiederà di andare via dei sottocontratto senatori o dei sottocontratto sottocontratto ma alla fine i sottocontratto sono tutti i senatori se togliamo Capuano e Zampano ma Zampano è veramente sottocontratto ha firmato sì ha fatto una bella trivella ha fatto una bella trivella domenica bella trivella Zampano aveva un contratto credo legato alle presenze e penso che l'abbia raggiunto bene bene veramente molto bene senti che pericoli avverti tu per il prossimo anno perché insomma abbiamo sentito poco fa Nicola Binda della Gazzetta dello Sport ci dice sì ma in fondo dalla Serie C non è salito un granché dalla Serie A sì insomma il Chievo boh l'Empoli ma sarà una passeggiata per il Frosinone che ha un super organico no il discorso è quello io temo soltanto il Frosinone lo dico sinceramente sono d'accordo col Collette Binda però bisogna capire da dove da chi riparte il Frosinone sì infatti questo è cioè se non ci fosse stata la delusione di questa retrocessione e noi andiamo a prendere i 15 giocatori sotto contratto io ti dico il Frosinone ha 4 attaccanti da 60 gol in Serie B sì e alla fine gli attaccanti fanno la differenza per cui sarai tranquillo il problema è capire ma dopo la delusione di quest'anno Ciano resta farà di tutto per andare via si parla insomma i giocatori più caldi Ciano che in fondo è un giocatore che ha 28 anni fa 7 gol in Serie A Paganini è un giocatore che ha dimostrato di essere tornato più forte di prima dopo questi tre legamenti quasi quasi ma però pure ha un legamento capitevo dire anche che c'ha solo due gambe quindi tre legamenti obiettivamente è eccessivo è una cosa straordinaria e poi il Cipsa stesso che sembrerebbe averci un mercato dei faticatori della Serie A io credo che sia difficile trattenere questi calciatori a Frosinone se arrivano offerte dalla Serie A e penso soprattutto a Ciano oggettivamente che mi sembra uno di quelli che sta al penultimo treno per poter andare stabilmente in Serie A e magari fare un salto alla spalla al Genoa al Cagliari non so sicuramente ci sarà qualche offerta per questi giocatori ma dipende sempre dalla contropartita parliamo di Paganini che è a scadenza Frosinone 2020 il che vuol dire che se io Paganini mi siedo al tavolo con Frosinone e ricevo un'offerta altrettanto allettante e so di essere un giocatore importante per questa squadra e so che intorno a me e altri compagni si costruisce una scuola per andare in Serie A probabilmente Paganini ci pensa e poi chiaramente dipende sempre da quella che è l'offerta perché io non so quanti soldi siano disposti a tirar fuori per Ivariciano e Paganini cioè non dimentichiamoci che l'anno che Frosinone è retrocesso dalla BIPLA ossia la stessa situazione erano stati offerti 2 milioni dall'Eganess per Paganini erano stati offerti 3 milioni e mezzo per Ciofani e più o meno per la stessa cifra per Dionisi eppure sono rimasti a Frosinone certo c'era sia Mauro D'Agostini che niente meno che Stefano Larosa che c'ha il microfono in mano ha paura no no guarda D'Agostini ci parlo con Larosa lo capiamo finalmente qualcuno che dice le cose come stanno ciao da Taniere buonasera se ritieni che i giocatori che sono ancora sotto contratto soprattutto quelli ovviamente della vecchia guardia hanno ancora le motivazioni sufficienti per mettersi in discussione in un campionato comunque logorante che sicuramente le qualità tecniche le hanno lo sappiamo tutti ma hanno le capacità mentali gli stimoli giusti per mettersi ancora in discussione per un campionato del genere infatti il discorso è proprio questo capire se ci sono i presupposti perché questi giocatori tornino ad essere quelli che noi conosciamo o ritornino ad essere quelli che conosciamo e secondo me da questo punto di vista è fondamentale la scelta del direttore sportivo e dell'allenatore buonasera Daniele si è Paolo Tosti con la voce di Stefano Rosa ma tu per la tua no io volevo chiederti una cosa dei giocatori che sono in prestito quest'anno in diversi campionati quindi di questi chi prenderesti in considerazione per un buon campionato di serie B senza darli in prestito nuovamente anche questo Stefano un discorso che dipenderà da chi sarà l'allenatore del Frosinone io ho un mio sogno nel cassetto da questo punto di vista però ormai è da anni non so se si realizzera mai è quello di Peppe Iachini se dovesse venire Iachini io gli lascerei carta bianca per fare la squadra perché nessuno come lui aveva vinto tanti campionati di serie B col 3-5-2 però ma guarda lui in genere è un giocatore che adatta i moduli ai giocatori che ha a disposizione alla fine si a Empoli ha giocato col 3-5-2 trasformando il 4-3-1-2 di Andrea Zoli però guarda caso nel momento in cui ha rientrato Andrea Zoli ha continuato a giocare col 3-5-2 quindi forse non era tanto sbagliato cambiare modulo a quella squadra si forse noi qui insomma siamo dei piccoli appassionati di Venturato però insomma va bene no anche Venturato no no sinceramente anche Venturato è un allenatore che mi piace però è rimasto sempre nell'ambito di Cittadella capito un po' come Foscarini che quando è uscito fuori da Cittadella è diventato uno qualsiasi insomma potrebbe averci la malattia di Casperini probabilmente questo non lo sappiamo mai andare in una grande squadra c'era Silueri Andrea Santacaterina che aveva l'ultima domanda Daniele poi ti rilasciamo perché il riscatto lo hanno pagato quindi sta a posto perfetto Daniele buonasera ciao buonasera mi hai anticipato un po' la domanda sugli allenatori quindi te ne faccio un'altra visto che abbiamo parlato di qualche giocatore che probabilmente potrebbe essere anche utilizzato come scambio in contropartite tecniche a questo punto facciamo un esempio Ciano lo daresti via per prendere qualcun altro magari qualche giocatore di buona prospettiva a lungo raggio ma sicuramente se la contropartita fosse di livello è un discorso da fare ma conoscendo Stirpe io credo che voglia fare o voglia rimodellare aggiustare sia del termine che volete questa attuale rosa con giocatori scelti da lui per cui più che contropartite credo che punterà sul fatto di prendere soldi Daniele senti ultimissima domanda ha fatto finta di dire che l'ultima domanda ma tu uno come Salomon tu uno come Salomon non che è un prestito non te lo faresti riprestare o magari tra questi giocatori prestati da noi e faccio fuori Vinamonti e Cassata perché stiamo a parlare di giocatori e così ma di questi prestiti arrivati un che ne so un Ghiglione un Salomon un Balzania non faresti carte false per tenerlo o magari carte false le fa il Palermo carte false non le faccio guarda sono sincero tra i giocatori che ha nominato non c'è quello che io terrei ma terrei per un semplice fatto perché più di un'occasione va dimostrato di avere lo spirito ciucciaro quello che c'ha sempre con tra di singola la cattiveria la rabbia che è goldanica gli altri sinceramente non è che mi abbiano lasciato una grandissima impressione sicuramente Salomon nelle ultime partite qualcosa ha dimostrato però io ritengo ancora che Ari Audo sia più forte di Salomon io Ghiglione mi ha colpito fin quando stava bene Ghiglione non si è fatto male scomparso guarda non lo so io purtroppo con Ghiglione sono avvelenato perché mi ha fatto perdere una scommessa nel senso io l'ho visto in Canada allora hai ragione in quei 17 giorni in Canada era un giocatore inguardabile per cui ho scommesso con l'ufficio stampa del Frosinone che non avrebbe mai fatto un gol in Serie A e adesso devo pagare una scena ai 7 ragazzi dell'ufficio stampa del Frosinone è andata così solidarietà solidarietà Daniele grazie grazie tanto grazie a tutti ciao buona serata ho fatto pure caso a Mattiello che gli ha fatto espulgere sì ma Mauro poi facciamo una chiacchierata con Francesco sui giocatori sotto contratto del Frosinone poi ovviamente condizioneranno anche probabilmente le scelte future secondo me sono giocatori che sono stati presi per un certo tipo di sistema di gioco lo sappiamo che è il 3-5-2 quindi in questo diciamo dei giocatori sotto rosa che abbiamo mancano i tersini a parte Zampano che comunque secondo me è un laterale è un esterno di centrocampo più che un tersino mancano gli esterni alti e mancano anche i centrocampisti che danno un po' di velocità di cambio di ritmo quindi secondo me anche nella scelta dell'allenatore si dovrà tenere conto di questo aspetto perché se tu scegli un allenatore che gioca con un sistema di gioco diverso Mauro dici i 4 giocatori che dobbiamo comprare appena usciamo da qua vabbè i giocatori siamo i migliori giocatori ne abbiamo parlato in Moncini ne abbiamo parlato settimana scorsa ma a me ecco magari facciamo un nome per reparto però dipende ovviamente dal sistema di gioco che tu dici io riferisco un allenatore che ho già detto l'altra volta che incide sulla squadra quindi un giocatore con un atteggiamento più propositivo quindi per questo motivo segnalo come difensore anche se ha un costo abbastanza elevato che è Graviglion del Pescara che secondo me è molto forte molto bravo nel recupero e quindi ti permette di avere una difesa alta e quindi di giocare con un baricentro più alto come centrocampisti per quelle che sono le nostre esigenze secondo me ecco per esempio ce ne stanno diversi c'è Biola c'è Biola di Donna ogni tanto ogni donna Biola se resta a Barone della Cremonese che secondo me è un signor giocatore c'è Brugman del Pescara questi come organizzatori di gioco come Mezzali ci sono Verre Falzerano del Perugia che sono quei giocatori che ti danno il cambio di passo che non abbiamo in attacco noi l'abbiamo fatto io ho fatto il nome di Moncini c'è La Mantia c'è Donna Rumma c'è Vito che è una seconda punta invece con Francesco Pippenburg che quest'anno è arrivato quinto in campionato insomma 60 punti arrivava da un campionato triunfale l'anno scorso è già chiara la strategia di mercato per vincere il prossimo campionato a Ferentino o no? Chiara direi proprio di no abbiamo ecco ci stiamo incontrando adesso col Presidente cerchiamo di capire se ci sono i presupposti per poter continuare a far bene in tal caso sì ce l'abbiamo molte idee abbiamo molte idee col direttore su come improntare la prossima stagione però chiaramente dipenderà tutta dalla società che campionato di promozione è stato questo qui che è stato il campionato insomma il Gaeta a un certo punto è partito il Pontina c'è andato c'è andato dietro alla fine vince il campionato il Gaeta con 6 punti di vantaggio sul Pontina vince meritatamente perché comunque è stata la squadra con maggior spessore tecnico fondamentalmente è stato un campionato difficilissimo a detta di tutti 6-7 squadre che si contendono insomma la vittoria del campionato non si era mai visto negli ultimi anni quest'anno è stato proprio così se pensiamo a squadre fortissime per esempio come il Monte San Giovanni che è finita a metà classifica Monte San Giovanni Campano ti dice un po' come è stato l'andamento il livello è stato veramente importante con le Pontine a farla da padrone da padrone e il Gaeta che comunque veniva da un momento difficile a metà campionato è riuscito a cambiare allenatore e comunque faccio i complimenti appunto all'allenatore del nuovo del Gaeta è riuscito a fare un campionato strepitoso al giorno di ritorno senti i punti di forza di questo Ferentino che insomma da neopromossa poteva soffrire un po' invece non ha sofferto invece che cosa è mancato per arrivare poi a fare il salto di qualità e alla doppia promozione il punto di forza secondo me è stato comunque il collettivo perché ho potuto contare su un gruppo di 26 uomini veri ma veri uomini con la U maiuscola veramente qualcuno l'abbiamo seguito su Facebook straordinario sì il nostro capitano virtuale Armando Rinaldi è un gruppo fantastico è stato siamo riusciti anche a esprimere un ottimo gioco nonostante il tanto odiato 3-5-2 in questo momento ma dipende come lo fai il 3-5-2 con gli esterni soprattutto non è una questione di modulo ma di atteggiamento e di interpretazione abbiamo espresso un ottimo gioco abbiamo avuto qualche difficoltà più in casa perché molte squadre venivano qui col pullman davanti la porta e abbiamo perso addirittura qualcuna pareggiata ma altre partite perse in casa con 15-16 occasioni da gol fatti contro purtroppo quella è stata un po' una mancanza nostra soprattutto con diciamo le piccole dove abbiamo perso 16 punti insomma con quelli che sono retrocessi però sarà stato pure un collettivo importante però Ambrifi che fa 27 gol è un po' più collettivo degli altri se vogliamo è stato determinante decisivo e chiaramente classico caso del lavoro che paga in promozione trovare un professionista del genere fa bene all'anima arrivi al campo io arrivo solitamente tre quarti d'ora prima al campo lui già sono tre quarti d'ora che sta lì quindi un'ora e mezza prima che si allena fa postura insomma è un ragazzo che è veramente un esempio importantissimo soprattutto per i più giovani è questo lo aspettiamo Francesco Vippenburg vediamo se che cosa succederà a Ferentino ma insomma lui lo sa questi campionati li attenzioniamo in questa in questa trasmissione ecco facciamo invece attenzione a quello che ci dia Andrea Andrea Santa Caterina che stasera ci porterà in un in un ricordo e ci fa piacere dargli subito la linea e accompagnarlo e seguirlo in questo suo ricordo sì grazie Armando allora se facciamo uno sforzo diciamo che possiamo immaginare il Benito Stirpe come se fosse un gigantesco condominio un condominio che ha al centro un meraviglioso patio che non è altro che un giardino verde bellissimo ora se riusciamo in questo sforzo possiamo immaginare ogni sediolino dello Stirpe come se fosse un mini appartamento quindi va da sé che ci saranno appartamenti più costosi appartamenti meno costosi quelli che hanno una visuale migliore sul giardino quelli che sono meglio esposti quelli più prossimi all'uscita ecco appunto se pensiamo agli appartamenti possiamo pensare anche possiamo immaginare anche che tutte le persone che siedono su quei seggiolini sono come dei condomini è gente che paga un affitto di vario valore di differente valore per affittare questi appartamenti per una stagione che va più o meno da settembre fino a maggio è come se avessimo fondamentalmente una casa al mare noi invece affittiamo i seggiolini dello Stirpe succede quindi che se pensiamo per un attimo alla routine di questo condominio ovviamente svegliandosi sempre nello stesso posto succede come nei veri appartamenti abbiamo sempre la stessa visuale per esempio io dal mini il mio mini appartamento in curva nord ho una bellissima visuale su Monte Cagume su quello che succede dietro quel monte succede anche che in questa routine praticamente cominciamo a prendere coscienza del fatto cominciamo a capire a che ora bisogna arrivare per trovare parcheggio libero possiamo sapere possiamo conoscere in che punto arriva l'ombra in un giorno di caldo torrido cominciamo ad incontrare delle persone salendo e scendendo quei gradini quindi succede che con queste persone qualcuno non succede nulla non abbiamo rapporti con qualcun altro ci scambiamo a malapelo un saluto visto che lo vediamo varie volte con altri invece entriamo in empatia quindi dal ciao dal buongiorno passiamo alle strette di mano passiamo a chiederci a scambiare quattro chiacchiere a berci una birra insieme se ci pensate per un attimo come nei veri condomini anche nello stirpi abbiamo i vicini di casa cioè quelli che siedono proprio vicino a noi dietro davanti di fianco ecco il signor Gianni era un mio vicino di casa perché sedeva esattamente nella fila dietro la mia sedeva con suo fratello e con i suoi nipoti Diego e Gianluca che salutiamo con il signor Gianni come dicevo prima all'inizio ci scambiavamo solo dei saluti un buonasera poi siamo passati al come va alle strette di mano a parlare del più e del meno dopo ogni gol del forosinone io mi dovevo girare e li dovevo abbracciare lui e suo fratello quando mi dimenticavo di fare questa cosa il signor Gianni affettuosamente mi tirava uno scappellotto dietro il collo come per dire ti sei dimenticato girati e salutami una volta da quando è iniziata questa trasmissione che il signor Gianni seguiva con affetto ogni volta che arrivavo allo stadio mi chiedeva mi diceva guarda che martedì prossimo devi dire questo martedì prossimo devi dire quello mi rimproverava affettuosamente allora gli ho detto guarda che una volta ti invito in trasmissione lui mi ha detto no no non ci vengo perché non ci vieni perché se vengo mi incazzo e non parlo beh io faccio molta difficoltà a pensare al signor Gianni arrabbiato perché per me e per tutti noi aveva sempre un sorriso buonissimo sulle labbra aveva sempre una parola buona per tutti quanti noi quindi volevo ricordarlo perché il signor Gianni purtroppo ci ha lasciato domenica neanche a farla apposta esattamente dopo la partita del Frosinone quindi io volevo ricordarlo mandargli un abbraccio un bacio e salutare i suoi nipoti Gianluca e Diego che tra virgolette hanno lavorato anche per noi abbiamo perso purtroppo un tifoso ma soprattutto abbiamo perso un amico Andrea grazie Andrea grazie come al solito ci riesci ci riesci sempre a toccare a toccare il cuore un po' complicato come al solito vorrei intervenire dopo gli interventi gli interventi di Andrea infatti siamo sulle cose molto serie sono quelle delle cose serie in questo caso sì perché Andrea diventerà protagonista anche Andrea diventerà protagonista anche al festival Calcio e Terra che è in programma a Veroli tra giugno e luglio è un festival chiaramente dedicato esclusivamente al calcio dove abbiamo già confermato una serie di ospiti veramente eccellenti faccio qualche nome il programma è chiaramente in fieri però ancora però abbiamo già dei nomi importanti che sono Riccardo Cucchi Francesco Revice Belinazzo Emanuele Dotto faremo una serata ius sanguinis ius culture con i calciatori di questo territorio e quelli che sono diventati di questo territorio come Alessandro Frara e ci sarà con lui Giuliano Gianni Chedda Mirko Gori Incocciati vediamo Incocciati ci deve confermare abbastanza convinti e Corrado vero Urbano un ex calciatore e avremo un concorso ecco qui Mirko Gori protagonista proprio della foto bellissima dopo il rigore parato è un lavoro del maestro Morano questo qui bellissima questa fotografia San Sirio quella partita finita 3 a 2 per noi perché ho sentito di falsi storici peggiori di questo e poi ospite veramente eccellente a Veroli a luglio avremo Federico Buffa quindi uno spettacolo di Federico Buffa e questo diciamo è proprio il fiore all'occhiello del nostro festival organizzato dall'associazione di tutti i colori del libro Laura grazie ecco l'abbiamo visto prima è attualissimo oggi il lavoro del maestro Morano ricordiamo ancora lì Ballotelli sdraiato per terra perché ha sbagliato anzi gli ha parato un calcio di rigore Bardi non è da queste cose che si giudica un giocatore per la Milano esatto si giudica dagli atteggiamenti di Gori un giocatore Stefano che facciamo noi a Milano come finisce tanto a poco poco a poco è una partita troppo complicata perché arriviamo con il Milan che ha bisogno assolutamente di punti è vero non è una squadra brillante noi avremo tanta voglia di fargli un piccolo dispetto però francamente i valori in campo sono troppo differenti quindi io non sono troppo fiducioso Paolo l'obiettivo se Stefano non è fiducioso vuol dire non si vince se non si vince non si arriva ai 30 punti che il presidente Stirpe ha dato come traguardo credo che sia abbastanza complicato tagliare questo traguardo dei 30 punti perché comunque le partite non sono mai facili quella di Milano è quasi un risultato chiuso scontato quella in casa col Chievo sicuramente ci può dare qualche possibilità in più ma io anche in quel caso credo che sarà comunque molto difficile fare il risultato perché il Chievo l'ho visto anche giocare ieri sera mi sembra comunque una squadra abbastanza motivata nonostante la retrocessione ormai acquisita da mesi che gli racconta Baroni in questa settimana ai calciatori Francesco di divertirsi domenica andare a Milano per divertirsi giocare con la testa libera non divertirsi nel vero senso della parola non c'è niente da perdere hai comunque un pubblico una tifoseria eccezionale che continua a sostenerti io direi facciamolo per loro tu domenica te la vai a Milano un terzo anello sperando che reggi perché visto le ultime diciamo della gazzetta pare che il terzo anello verde soprattutto sia un po' c'è difficoltà a comprare i biglietti in questo momento perché i siti funzionano male però sì andrò a Milano la partita rimane alle 6 perché non verrà spostata alle 8 e mezza e niente starò lì ovviamente guardando la partita credo un po' con lo spirito che diceva l'allenatore del mister perché proprio io credo che un calciatore che è consapevole che magari può fare solo questa nata in Serie A o comunque resta stare procedendo una partita a San Siro la gioca con la motivazione del fatto proprio di stare a San Siro poi hanno già venduto 60.000 biglietti cioè si arriverà sicuramente anche perché è l'ultima partita in casa dell'anno il Milan deve andare in Champions quindi sicuramente sarà una partita con tanto pubblico e molto bella io credo che segneremo almeno un gol perché comunque non so perché ho questa strana spiegazione segna Paganini per Elena segna Paganini Milanista di ferro Daniel Ciofani quindi insomma Mauro se le ultime due domeniche le ultime due partite non facciamo sei punti ne facciamo? Ma credo che la partita di Milano sia chiusa come pronostico il Milan sta in piena corsa per la Champions quindi credo che le uniche possibilità di fare i punti siano circoscritte alla partita con il Chievo onestamente Speriamo in bellezza almeno questo? Lo speriamo insomma perché veramente Una cosa bella della partita con il Chievo sarà che probabilmente sarà l'ultima partita di Bellissia in Serie A e quindi credo che sarebbe come è stato anche a San Siro dove l'hanno omaggiato con un lungo applauso io credo che alla fine secondo me giocherà uscirà l'85esimo e gli faremo giustamente la standing ovation 40 anni un calciatore Mando va solo un ultimissima cosa velocissima fra i nomi dei possibili nuovi allenatori del Frosinone a parte Vitturato diciamo sì Terredocchio il nome di Bucchi che già era stato accostato a Frosinone prima dell'arrivo di Longo ovviamente dipenderà molto dall'andamento del campionato del Benevento perché se il Benevento vince in due volte probabilmente Bucchi rimane in Serie A ovviamente dipende anche abbiamo due allenatori sotto contratto dipende anche quanto Stilpe voglia avere un terzo allenatore sotto contratto o un quarto che potrei esserci anche io a un prezzo abbastanza basso devo dire faccio un tre il Q2 brillantissimo va bene e niente il tempo è stato tiranno facciamo come dire quando la pensiamo la trasmissione facciamo un po' di fatica perché ho detto oddio ma non abbiamo più niente da dire invece poi arriviamo qui e il tempo vola è tutta colpa di Andrea Santa Caterina che è rimasto tranquillamente perché se Cipsa si traveste da Bacayoko domenica possiamo dire la nostra perché Cattuso se lo guarda e si inviverisce sbaglia della formazione quindi tutto al nostro vantaggio grazie Andrea grazie grazie a Mauro D'Agostini di essere stato tra noi credo che vi sequestreremo anche la settimana prossima perché le suggestioni di mercato a noi ci impressionano e quindi vogliamo continuare ad essere impressionati in questo modo grazie buonasera a voi Laura grazie di essere tornata tra noi grazie a voi e vi aspettiamo a Veroli il 15-16 giugno e poi le altre date a partire a partire ma scritto che rega ha detto Belgio giammai ha detto Giammele Belgique l'ha detto che rega Francesco Pipbur grazie 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 a voi è sempre un piacere Paolo grazie tanto grazie a voi è sempre una bella esperienza è una piacevole sensazione salutiamo Assunta salutiamo Assunta che è l'altro pezzo di Paolo che è stata l'altra parte della telecamera sono i gemelli filippini non possono andare separati il corpo è un'anima esatto Stefano grazie tanto di essere stato tra noi grazie a voi spero di incontrarvi nuovamente magari in una trasmissione di pregare estiva dedicata al calciomercato quando sapremo chi è il direttore sportivo e l'allenatore perfetto va bene cercheremo di fare anche però le facciamo soltanto dopo le 23 così Mauro D'Agostini facciamo con gli aperitivi facciamo le puntate di calciomercato perché così non era fascia protetta e potevamo fare quello che volevamo sì grazie a tutti grazie alla regia grazie a voi che ci avete seguito che ci state seguendo anche in questo momento su X Radio e chi ci seguirà nella replica delle 21 e 10 la sta appunto vedendo noi ci vediamo per la 35esima puntata martedì martedì prossimo sempre alle 19 grazie a tutti buonasera ciao